Vale far vedere subito i gol, partenza fortissima del Bologna che va in vantaggio già dopo due minuti di gioco e Mattolini si lascia sfuggire il pallone e Savoldi in sacca da facile posizione. Il raddoppio 20 minuti dopo ancora per un infortunio della difesa calabrese, calcio d'angolo e palla fra Mattolini e Orazzi che la fa carambolare in rete, autorete quindi di Orazzi. Al 25esimo la terza rete, ecco la realizza Chiarugi su cross di Paris. Al 44esimo il Catanzaro accorce le distanze con questa bella rete di Nicolini. Nella ripresa Catanzaro si dà da fare ma è ancora il Bologna a segnare meritatamente al 32esimo ancora con Savoldi autore quindi di una doppietta sul passaggio di Chiarugi.